Bene, buongiorno, ben ritrovati. Allora, la settimana è dedicata al concetto di struttura di dati. Oggi la introduciamo. Cominciamo. Domani, dopo averla messa, questa struttura, all'interno di un vettore, parleremo di come si ordinano, in base a una chiave, un campo chiave, gli elementi all'interno di un vettore. Allora, cominciamo dalla definizione delle strutture, in C, struct, in Pascal, una parola più bella, record. Anche io continuo ancora a chiamarli così, records. Cosa sono? A cosa servono? E come, in qualche maniera, rappresentano un'evoluzione del concetto di tipo di dato e che ci avvicina, fra l'altro, al concetto di oggetto. A me mi piace dare questo percorso alla didattica, cioè partire dal basso, dai bit e dai byte, per arrivare fino agli oggetti, alle classi che faremo nelle ultime due settimane di lezione. E proprio il concetto che vediamo oggi è veramente un concetto intermedio, fra il tipo di dato primitivo, anzi, fra il bit e il byte addirittura, e il concetto di oggetto. Allora, vi ricordate l'altra volta, la settimana scorsa, abbiamo introdotto il concetto di vettore e eravamo partiti dalla necessità di dover memorizzare grandi quantità di dati, tutti dello stesso tipo. eravamo partiti da un esempio semplice, in cui invece di una grande quantità avevamo da immagazzinare in memoria dei voti presi da sei studenti e avevamo bisogno di definire il nome per ciascuna variabile, poi, se non lo stavamo impontatori appunto, e poi dopo dovevamo valorizzare queste variabili e poi quando dovevamo andare a calcolare, per esempio, la media dei voti da loro presi, dovevamo esplicitamente far riferimento al nome di ciascuna di loro, cosa che si può fare se le variabili sono poche, ma non c'è senso farle se le variabili sono tante. E ci è venuto incontro appunto il concetto di puntatore che ci ha consentito di definire un solo puntatore che scorreva le variabili tutte dello stesso tipo, in questo caso era un puntatore ad intero, l'abbiamo visto la settimana scorsa, che poi dopo aveva il vantaggio, il puntatore, che all'interno di operazioni complesse che richiedevano per esempio la sommatoria di tutte le variabili, a questo punto non era necessario indicare proprio il nome di tutte le variabili, bastava far scorrere il puntatore all'interno di un ciclo FOR con un indice che andava da un certo indice a un altro indice e le prendevamo tutte. Dopodiché abbiamo definito il concetto di vettore che abbiamo visto l'altra volta, altro non è che essere un mascheramento di questo concetto. Per esempio, sto richiamando in maniera un po' indegna le cose che abbiamo visto la settimana scorsa, Per esempio, se dovremmo memorizzare i voti di 6 studenti, definiamo un vettore di 6 interi, dopodiché all'interno del FOR per andare per esempio a valorizzare queste variabili, invece che chiamarle una per una, andavamo a leggere i valori dall'input e poi li depositavamo nel dereferenziamento del vettore aumentato di I. Perché abbiamo parlato l'altra volta dell'aritmetica dei puntatori, che se il puntatore aumenta di 1, in realtà aumenta l'indirizzo dentro quel puntatore non di 1, ma di tanto quanto è grande in char, cioè in byte, la dimensione del tipo puntato. E il vettore, il concetto di vettore, altro non è che un... questo lo ricompiliamo per vedere che funziona, altro non è che un modo sintatticamente... sintatticamente gradevole di rimpiazzare questa brutta notazione, abbiamo visto l'altra volta che quello che si fa in pratica è prendere il nome del vettore e fra parentesi quadre mettere l'indice dell'elemento che si vuole andare a prendere. Ricordiamoci che l'indice nei vettori in C parte da 0, la numerazione dell'indice. Quindi, voti più 0 sarebbe il puntatore, cioè voti, sarebbe il puntatore al primo elemento del vettore. Questo è l'ultimo richiamo che faccio della settimana scorsa. e cioè il nome di un vettore altro non è che un puntatore che in quel momento e no, che in quel momento, che contiene quel puntatore l'indirizzo del primo elemento del vettore. Ecco perché dico che i vettori non sono altro che una maschera di puntatori. Allora, quindi, questa operazione è qui, invece che scriverla così, la scriviamo così, che è decisamente più bella. Ecco, questo è esattamente lo stesso codice, se lo andiamo a compilare, e quindi si comporta alla stessa maniera. Bene. Quello che dico, che il vettore è solo un mascheramento del puntatore, credo di poter dire, insomma, mi fido di quello che sto dicendo, lo credo. L'unica cosa dove mi si potrebbe obiettare se è troppo talebano, se è troppo duro in questa cosa che tu dici, è qui, nel fatto che la notazione vettoriale ci consente di andare ad allogare tot spazio per il vettore che vorremmo poi dopo utilizzare. Con i puntatori questa cosa qui non sarebbe facile farla. Va bene. Tutto questo è stato un richiamo, un richiamo. Adesso vediamo qual è il passo avanti importante che dobbiamo fare oggi. Il passo avanti importante nasce dai casi significativi in cui noi dobbiamo in qualche maniera raccogliere insieme i dati che sono di tipo diverso. Cioè il vettore, lo dico per l'ultima volta, è il puntatore nascosto dietro il vettore, essendo un puntatore a quel tipo ci consente di scorrere tutte le variabili di quel tipo, ma perché appunto sono tutte dello stesso tipo. Non potrei fare la stessa cosa se le variabili fossero di tipo diverso. Per esempio qui abbiamo la necessità di andare a calcolare la media dei voti riportati dagli studenti in vari esami. In fondo i voti riportati nei vari esami sono tutti dello stesso tipo. Forse potremmo utilizzare una matrice. Abbiamo visto sempre nel fine della settimana scorsa che un vettore di vettore di interi è una matrice di interi. Ma qui abbiamo anche il cognome in questo semplice esempio. E il cognome non è un intero. E quindi questa disomogeneità nella tipologia dei dati ci rende impossibile gestire la cosa con un singolo puntatore. E quindi dobbiamo ricorrere a qualcosa di diverso. Un modo che potremmo cercare di usare per cercare di adesso questa qui la tolgo questa qui per per semplicità degli esempi che sto facendo. Un modo per cercare di affrontare il problema di calcolare la media riportata da certi studenti in ogni singolo tipo di esame potrebbe essere tentando di lavorare come abbiamo lavorato fino adesso quindi ripartendo dall'esempio che abbiamo appena visto e potrebbe essere quella di definire un innanzitutto ho bisogno se li metto su file questi dati se stanno su un file adesso io l'ho messo su un file per comunità per non dover scrivere dall'input ogni volta marsili 28 27 perché perderei molto tempo l'ho messo su un file e visto che stanno lì vado a utilizzare questo file per leggere dal file invece che dalla tastiera per leggere dal file della tastiera vi ricordo ovviamente lo sapete bisogna includere la libreria fstream e definire almeno un flusso fstream un flusso file e dargli un nome io in questo caso l'ho chiamato mio file poi poiché abbiamo il cognome di questi studenti ho bisogno di una struttura dati per poter mettere questo cognome ho pensato che al massimo un cognome ci avrà 20 caratteri pensato questo mi definisco un vettore di 20 caratteri e gli do il nome cognome e sarà la struttura dati dove ci andrà a finire marsili guidi eccetera e a questo punto posso pensare potrei pensare di definirmi tot vettori di interi quanti sono le materie d'esame che questi studenti hanno affrontato dopodiché mi definisco un intero per sapere chiedere all'input quanti sono i studenti che sono messi a sedere e la media e somma voti che mi servirà per calcolare la somma e la media dopodiché vado ad aprire il file dove che si chiama risultati esami dove ho messo questi dati lo apro e lo associo in modalità lettura quindi input al flusso mio file mediante la funzione cominciamo a stare i termini giusti questo sarebbe un metodo la funzione open dell'oggetto mio file ma ne parleremo fra un paio di settimane utilizzando il metodo open dell'oggetto mio file associamo al flusso dati mio file il file risultati esami che sta per come l'ho scritto nella stessa cartella dove sta l'eseguibile che adesso andrò a compilare a produrre compilando dopodiché per come io so che ho organizzato il mio file ho messo sulla prima riga il numero degli studenti che hanno sostenuto la prova d'esame e quindi lo vado a leggere e metto questo numero in questa variabile tipo intero e quindi so quanti saranno gli studenti che dovrò elaborare vado a fare questo controllo dicendo che se quanti è maggiore di max che è la dimensione massima del vettore io non vado oltre perché altrimenti vado in buffer overflow e qui magari ci metterete qualche istruzione di stampa è troppo grande sono troppi cose di questo genere ecco dopodiché mi vado con un for è un tentativo che sto facendo di risolvere il problema che ho nella mia testa il problema che ho nella mia testa è calcolare la media esame per esame di tutti quanti e vorrei anche sapere dato uno studente che voti ha preso in quella materia quello studente questo è quello che c'è in testa a me e sto cominciando a ragionare con molta difficoltà perché probabilmente non ho ancora le competenze per fare questa cosa che mi sta in testa allora che sto cercando di fare qui sto cercando di mettere con un for che va da zero a quanti tutta sta tabella dentro i vettori che ho predisposto ma in realtà ho predisposto un vettore per analisi 1 un vettore per analisi per fisica 1 un vettore per fondamenti ma non ho predisposto un vettore per i nomi e quindi è questo un errore che sto facendo comunque se io un errore logico se io vado a leggere dal flusso mio file e metto la prima cosa che trovo in cognome ecco non torno a parlare della meravigliosità di questo operatore che a seconda di quello che trovo a destra fa una cosa piuttosto che un'altra in questo caso alla sua destra trova un vettore di caratteri e quindi lavorerà con il concetto di stringa cioè va a leggere dall'input fin quando non trova il carattere di fine di fine stringa e tutto quello che trova lo mette in cognome sperando che uno non abbia scritto una cosa di questo genere perché se è scritto una roba più di 20 caratteri mi va in buffer overflow sul cognome che l'avevo definito di 20 caratteri e vi ricordo ancora non so se vi ricordate giovedì scorso abbiamo visto che il computer non è che dice errore va a fare delle cose brutte e quello che fa dipende da dove stava il vettore buffer overflow è una cosa da evitare assolutamente allora il cognome lo metto in quel vettore poi ecco a seconda di quello che è I mi va a mettere in analisi 0 il voto preso in analisi 1 da Marsili in fisica 0 il voto preso in fisica da Marsili e poi in fondamenti 0 il voto preso in fondamenti da Marsili poi I diventerà 1 farà lo stesso per lo studente successivo e va avanti questo va avanti 4 volte perché quanti ha letto quanti quanti era 4 quindi fa 4 volte questa operazione va bene però già un errore logico è questo è che in realtà mentre questi voti sono stati messi in 3 vettori sono stati messi in 3 vettori di 4 elementi il cognome ha sempre sovrascritto lo stesso lo stesso vettore e questo è un errore grosso che sta in mente a me no? ho fatto questo errore grosso alla fine in pratica in cognome ci starà per capirci Carli cioè Marsili Guidi Tassi sono perduti ci starà Carli in questa cosa un po' stupida che sto facendo però nei vettori analisi 1 fisica 1 fondamenti effettivamente ci sono andati a finire quei voti là tant'è che io a questo punto posso prendere il codice che abbiamo visto la settimana scorsa e riprodurlo su ciascuno di quei vettori per esempio inizializzando somma voti a 0 faccio scorrere analisi 1 e faccio la somma di tutti i voti presi in analisi 1 poi divido questa somma per quanti erano 4 e ciò la media dei voti riportati in analisi 1 faccio esattamente la stessa cosa con fisica 1 faccio esattamente la stessa cosa con fondamenti ed effettivamente una parte dei miei problemi l'ho risolti però quando vado a scrivere di chi vuoi sapere i voti e vado a leggere il cognome per esempio non so Guidi Carli Marsili quello che volete voi io non so come gestire questa cosa non la so come gestire i più bravi di voi potrebbero darmi un consiglio e cioè di fare un vettore di vettori di caratteri e quindi mettere i nomi nel primo vettore di caratteri nel secondo nel terzo e nel quarto questo sarebbe una gran bella cosa ed effettivamente sarebbe sulla strada della soluzione perché quando io dopo gli vado a chiedere di chi vuoi sapere i nomi e vado a leggere per esempio non so Marsili quello mi scorrerebbe il vettore dei cognomi mi troverebbe che Marsili è al primo posto tirerebbe fuori l'indice che è zero e mi andrebbe sugli altri tre all'indice zero a tirar fuori i voti tutto questo non lo faccio perché non c'ha senso adesso c'è un modo molto più semplice di lavorare molto importante che ovviamente ha cambiato anche questo la storia dell'informatica è aperto anche quello che stiamo per vedere la strada al concetto di basi di dati database che sarà proprio una materia che studierete a parte nel terzo anno beh tanto in tanto per capire l'abbiamo visto lo compiliamo questo qui e vediamo che effettivamente lavora mi dice che la media dei voti riportati vabbè però non c'è scritto in che esame vabbè il primo è in analisi 1 il secondo è in fisica il terzo in fondamenti di chi vuoi sapere i voti non so Guidi non so bene come prendere i voti di Guidi perché è un po' impacciato e quel modo che vi ho detto sarebbe un modo per soprare il problema ma sarebbe un modo molto grezzo qual è il modo per superare il problema di mettere su un vettore tipi di dato diversi allora innanzitutto bisogna che il programmatore cominci a fare un po' di sforzi di 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 non so che di 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 non so cosa dire per capire qual è la struttura che lui vuole dare al suo programma ma soprattutto qual è la struttura che lui vuole dare ai dati che il suo programma utilizzerà cioè lui deve capire il suo programma di che cosa parla di quali dati andrà a elaborare se va a elaborare per esempio dati di studenti allora lui pensa che l'individuo di cui dovrà occuparsi il suo programma è lo studente è un individuo che sarà caratterizzato da una pluralità di dati che lo contraddistinguono il nome il cognome che sono due stringhe la data di nascita che potrebbe essere una stringa ma forse anche no perché c'è giorno mese anno ne parliamo fra un attimo fra un po' e poi un numero di matricola che sarà il numero di matricola un numero o una stringhe ci deve ragionare un po' poi ci ritorniamo poi ci avrà i voti riportati nei vari esami quindi possiamo fare il libretto allora quando che il il programmatore si è chiarito quella che è la struttura dati portante del suo programma o le strutture dati portanti del suo programma che sono funzioni di quelli che sono i requisiti del programma cioè quelli che gli ha chiesto il committente chi lo paga per fare quel programma i cosiddetti requirements cioè prima bisogna che il programmatore abbia chiaro quello che il committente vuole che lui faccia dopodiché quando al programmatore è chiaro quello che chi lo paga vuole che lui faccia deve pensare a come organizzare i dati e questa è un'operazione molto delicata ma lo vedrete veramente nei corsi successivi il termine del processo di concepire le strutture dati sarà proprio quello che stiamo per vedere adesso nel nostro caso il programmatore conclude che sarà in questo caso conclude dicendo che ha capito che deve raccogliere i dati presi da uno studente nel corso degli esami che ha sostenuto all'università allora si crea attenzione è la prima volta che lo vediamo un nuovo tipo di dato i dati che abbiamo visto fino adesso a parte NUM si è un concetto un po' simile a NUM però più sofisticato comunque FLOT CHAR INT erano tipi di dato predefiniti dal linguaggio quello che stiamo per vedere adesso è invece un tipo di dato definito dal programmatore tant'è che una volta in C bisognava scrivere bisogna scrivere così type def cioè sto definendo sto definendo un tipo che è una struttura e che io gli do questo nome oggi in C++ non è più necessario scrivere type def quindi si scrive direttamente che sto definendo una struttura di dati come un nuovo tipo di dato è un nuovo tipo di dati aggregato lui stesso di tipologie diverse perché le sto aggregando le sto aggregando perché sto seguendo una cosa che sta nella mia testa di programmatore e cioè che questi dati aggregati mi vanno a definire complessivamente un individuo di cui il mio programma si dovrà occupare un'entità vedrete nel vedrete nel corsi database il modello entità relazione e poi proseguirete su questi concetti l'entità fondamentale io la chiamo in questo mio esempio libretto perché perché per semplicità vado a definire un aggregato di dati di tipo diverso il cognome dello studente che lo definisco come un vettore di 20 caratteri un campo cognome è un campo che è un vettore di 20 caratteri un altro campo si chiamano così si chiama analisi 1 è di tipo unsigned un altro campo fisica 1 un altro campo fondamenti per semplicità mi fermo qui che cosa perché ho fatto questa cosa è perché io ho visto da dove vado a prendere i dati e quello che voglio fare sostanzialmente è riportare una riga di dati all'interno di una struttura il primo sarà un vettore di caratteri poi sarà un unsigned un unsigned e un unsigned questa cosa che ho fatto fra l'altro dopo vedete ci devo mettere il punto e virgola è un'istruzione no è una direttiva al compilatore qui non è successo niente non è stata allocata ram è solamente che ho detto al compilatore compilatore guarda che adesso utilizzerò un tipo di dati che sto definendo io che si chiama libretto che è costituito di quattro campi il primo campo si chiama cognome il secondo analisi 1 il terzo fisica 1 il quarto fondamenti il primo è un vettore di 20 caratteri gli altri 3 sono unsigned come si chiama questo nuovo tipo di dato libretto di che tipo è struttura è successo qualche cosa sulla ram no niente ancora parte il mio programma e faccio cose simili a quelle che abbiamo visto poco fa meno la riga 20 nella riga 20 vado a definire un vettore di quanti elementi quanti questa è una di quelle cose che ho predicato non si dovrebbero fare perché quanti è una variabile che non è stata distanziata questo non c'entra niente con quello che devo dire oggi però vedi che l'errore è dietro l'angolo comunque quanti dovrebbe essere la dimensione di sto vettore e la cosa importante capire in questa riga 20 è che questo vettore che ho chiamato esami non è di int non è di flot non è di char ma è di libretto cioè data la struttura libretto io la replico quanti volte in pratica mi sto costruendo con questo vettore una struttura dati per ospitare questa tabella se fossero stati tutti dello stesso tipo avrei fatto un vettore di vettori e non avrei avuto bisogno del concetto di struct ma siccome c'è quel marsili qui di tassi e carli devo per forza passare per struct in pratica quello che questo vettore qui alla riga 20 è una tabella di excel di access non di excel per chi avesse lavorato con i data base state vedendo come è fatta una tabella di access una tabella di access per chi ha avuto a che fare con quel programma o my sequel per qualcuno che avesse lavorato con my sequel altro non è che è un vettore di strutture io adesso me la cavo con strutture piccole perché devo fare un esempio ma non c'è limite al numero dei campi di una struttura per cui le strutture normalmente sono anche molto più grandi come le avete visto normalmente no ma a volte dopo che ho definito la struttura dati fondamentale comincio a popolarla cioè a valorizzarla di dati che li prenderò da quel file allora associo come prima il file al mio file vado adesso a valorizzare quanti chiaramente commettendo un errore l'ho fatto apposta per ritornare sul concetto dell'errore questa volta però nel for che mi va a valorizzare la struttura dati che ho definito la riga 20 lavoro in maniera più specifica vado a leggere dal file e la prima cosa che trovo o se avete domande la riga 1 l'ho saltata alla lettura precedente quando ho letto quanti adesso mi trovo alla riga 2 leggendo dal file la prima cosa che leggo è Marsili la vado a mettere dentro esami i che sarebbe adesso i è 0 al primo ciclo per cui sarebbe il primo elemento del vettore esami ecco attenzione state visto questo è visto tutto eh per cui guardatelo beh ecco il punto punto cognome che cos'è quel punto quel punto è l'operatore che mi consente di passare dalla struttura al singolo campo della struttura se io dico esami i punto cognome vado a prendere il campo cognome del primo record allocato nel vettore nel primo perché i è 0 in quel momento in generale punto cognome mi consente punto nome del campo mi consente di entrare dentro il campo della variabile allocata per farci che o per leggerlo o per scriverlo a solito in questo caso per scriverlo perché il dato letto verrà letto dal file e verrà scritto dentro il campo cognome di esami 0 esami 0 sarebbe la prima riga di quella tabella il campo cognome sarebbe il primo elemento il primo campo della prima riga rileggo dall'input i ancora 0 vado a leggere quanto ha preso Marsili in analisi 1 e lo vado a mettere dentro il campo analisi 1 di esami 0 analisi 1 è un intero per cui 28 2 8 viene tradotto in complemento a 2 viene messo dentro analisi 1 lo stesso faccio per fisica 1 e lo stesso faccio per fondamenti alla fine del ciclo di cui alle righe 25 e 26 io ho popolato tutta la mia tabella leggendo dal file allora la domanda è se il cognome ci avesse avuto uno spazio Rossi Ginori avrebbe preso solo Rossi chiaramente ci sono poi dopo c'è un altro modo per fare questo domande ancora adesso che io ho popolato tutta la mia tabella posso andare a fare le cose che facevo prima con molta più serenità tiro fuori la media dei voti facendo scorrere esami i analisi 1 faccio sempre scorrere il vettore esami come prima però vado a prendere il valore contenuto nel campo analisi 1 adesso poi tutte queste cose ve le rispiego da teoria e saranno spero più chiare intanto le vediamo proprio a lavoro faccio lo stesso per fisica 1 faccio lo stesso per fondamenti ecco e poi arrivo a quella cosa che prima non riuscivo a fare di chi vuoi sapere i voti leggi il cognome poi che faccio sapendo il cognome del ragazzo di cui voglio i voti guidi adesso guidi che sarà il terzo il quarto non lo so non lo so ma lo posso sapere faccio partire un ciclo potevo far partire un ciclo for un ciclo while fatto partire un ciclo while perché ci avevo in mente il concetto di sentinella devo scorrere il vettore fin quando non accade una certa cosa non lo so quando accadrà se al terzo o al quarto ciclo non lo so e quindi questa è una ricerca di un elemento di un vettore con modalità sentinella fermati quando succede una certa cosa io scorro il vettore esami andando ogni volta a prendere il cognome e scorro cioè vado oltre ogni volta aumentando di uno i fin tanto che il campo cognome è diverso dal cognome che ho letto in input allora la domanda che mi è stata fatta il microfono ha registrato è che se metto un cognome a caso va all'infinito sì è vero ma fosse questo l'unico problema strano che non è notato un altro ok è vero ci vuole una seconda condizione che mi dice il massimo numero di elementi del vettore è da scorrere per non andare in buffer in lettura in questo caso sarebbe in lettura perché esamina i valori non scrive niente ok l'osservazione è correttissima io sto andando piano piano sto andando gradualmente e comunque c'è anche un altro errore qui ci sono due errori in questo programma uno l'ho detto io i più esperti forse ne stanno vedendo un altro comunque concettualmente non è sbagliato quello che sto facendo l'organizzazione concettuale del programma è buona cioè io scorro il cognome fin quando che non è quello che voglio cercare cioè scorro il cognome scorro il vettore vado oltre finché non trovo il cognome che sto cercando l'osservazione è effettivamente pertinentissima se do un cognome che non c'è questo va avanti all'infinito ovviamente andrebbe in segment violation comunque supponiamo che gli do il cognome giusto guidi che è uno di quelli a un certo punto si ferma si ferma alla riga che corrisponde a guidi cioè l'indice a quel punto i è l'indice del vettore è l'indice dell'elemento di quel vettore il cui campo è guidi supponendo che io abbia immesso guidi a questo punto i è fermo lì e io devo solamente scrivere in output all'indice i del vettore esami qual è il valore di analisi 1 lo scrivo faccio lo stesso per fisica 1 e faccio lo stesso per fondamenti e ho finito quello che volevo fare chiudo anche il file di input perché si chiude sempre e ho finito la struttura concettuale di questo programma non è male ma ci sono due errori abbastanza clamorosi sostanto che se io lo salvo e lo vado a compilare mi compila per cui non sono errori sintattici si adesso però la complicazione di metterci una funzione non la metterei perché il tema della lezione di oggi è la struttura lo struct quello non è un errore adesso è un errore che farà sì che se io lo lancio questo non parte o fa delle cose strane beh veramente il primo l'abbiamo detto prima quindi spero che qualcuno l'abbia memorizzato c'è un errore clamoroso proprio beh l'ho compilato a questo punto lanciamolo e vediamo che succede segmentation fault perché mi da segmentation fault perché ho fatto questa cosa la riga 20 che non va fatta mai e cioè dimensiono un vettore con una variabile che non è ancora stata valorizzata quindi quella variabile c'è un valore a caso per esempio 1 miliardo e 435 mila 5 milioni 235 mili e quindi ovviamente va in segment fault banale il problema si risolve banalmente facendo così dopo che ho definito media la vado la vado subito a valorizzare grazie perché quello che ho detto è vero però c'è un altro problema adesso qui c'è il mio file che ancora non l'ho aperto quindi che devo fa? ripenso quello che ho appena fatto grazie e prima metto apro il file cioè apro il flusso e l'associo al mio file e a questo punto posso lavorare sulla variabile quanti perché è già stata definita vado a leggere dal file risultati esami la prima cosa che trova che ha supposto essere il numero degli studenti che si sono messi a sedere questo numero va a finire dentro guanti a questo punto quell'errore lì non dovrebbe darlo più cognome questo qui mi serve per leggere il cognome che leggerò dall'input poi salvo e ricompilo non dava errori prima non vedo perché deve dare errori adesso ricompilazione vediamo se funziona ha funzionato la media dei voti riportati in analisi è 29 25.5 e 27 adesso andiamo a questa parte qui lui si è fermo qui di chi vuole sapere i voti si è fermato qui aspetta che io batta il cognome lo faccio non mi ricordo come si chiamavano non voglio fare sciocchezze allora gli diamo primo tassi che sarebbe il terzo ci sta a pensare ma ci pensa tanto mazza quanto ci pensa oh da quando ha cominciato avrà fatto 4-5 miliardi di operazioni questo è un giga e otto un giga e sei clock ne avrò fatti al secondo ne fa minimo 500 milioni ci pensa tanto e non esce non va neanche in segmentation fault che sarà fa probabilmente c'è qualche problema nel ciclo while qua giù vedete qualche problema forse nel ciclo while questo solo per i più io l'ho detto veramente però non so se qualche eh il ciclo while non serve altro che far avanzare lì allora perché non esce mai da questo while ecco secondo me ci stiamo arrivando ma non ho capito bene puoi parlare un po' più forte allora cognome questo cognome qui è un vettore di caratteri di 20 caratteri questo qui pure in realtà sono i nomi di due vettori che sono due puntatori messo così non funziona io vi ho vi ho detto a suo tempo che due vettori non si possono assegnare né si possono confrontare come tali questo operatore qui messo fra due vettori che cosa fa va solo a vedere se i due nomi di vettori hanno dentro lo stesso valore ovviamente non ce l'hanno non vanno a vedere se se i vettori sono identici perché i due vettori non si possono confrontare non è così che si può fare anche se sono vettori di caratteri non è così che si può fare i vettori non si possono assegnare e non si possono confrontare non si può dire un vettore maggiore di un altro o un vettore uguale a un altro né tantomeno si può dire che un certo vettore con l'uguale diventa un altro tutte cose che non si possono fare perché i vettori altri non sono che i nomi i vettori altro non sono che i nomi dei vettori altro non sono che puntatori al primo elemento allora quello che bisogna fare è un'altra cosa bisogna che ci definiamo adesso il c++ ovviamente ci ha messo a disposizione delle primitive per lavorare con le stringhe e queste primitive sono delle funzioni di libreria che stanno in una classe c stringhe che vedremo più in là ma adesso noi siccome partiamo dal basso e siccome vogliamo essere programmatori che più bravi non si può cioè adesso andiamo a vedere come si possono confrontare due stringhe nella maniera più efficiente possibile cioè la funzione di libreria la facciamo noi ok come si fa a confrontare due stringhe cioè due vettori di caratteri che addirittura potrebbero avere lunghezze diverse andando a vedere se contengono la medesima stringa che chiaramente inizia dal primo elemento e sarà conclusa in entrambi i casi dal byte nullo cioè io potrei avere un vettore di 30 caratteri con dentro scritto aldo byte nullo un vettore di 10 caratteri con dentro scritto aldo byte nullo cioè che occupa quindi solo i primi 5 io devo fare una funzione ma faccio per conto mio che mi va a vedere passando gli nomi dei due vettori che hanno i vettori avrebbero dimensioni diverse ma come avete capito il compilatore ignora totalmente ciò deve solo andare a vedere che siano esattamente le stesse stringhe bisogna confrontare elemento per elemento allora io mi faccio eccola qua me la sono fatta per non perdere tempo poco fa mi sono scritto questa funzione che l'ho chiamata uguali che restituisce un tipo booleano perché il concetto che mi sta in mente a me è che dovrà restituire vero se le due stringhe sono vere falso se le due stringhe sono diverse allora che cosa faccio gli passo due vettori di caratteri potevo fare così o potevo fare così è uguale non c'è nessuna differenza è esattamente la stessa cosa io dovrei fare la conversione implicita ok adesso c'è una domanda dopo mi fai vedere esattamente queste due cose però io ribadisco sono esattamente la stessa cosa però per omogeneità facciamo così scusate quindi invece che definire due vettori definito due puntatori a carattere che è la stessa cosa poi faccio partire un ciclo in cui si va a vedere dereferenziando il primo puntatore che all'inizio quando lo passerò sta puntando il primo carattere della stringa dereferenziando l'uno e dereferenziando l'altro a questo punto posso andare a vedere se sono uguali con questo operatore perché dereferenziando l'uno e l'altro vado a prendere il carattere cioè i codici ASCII quindi posso vedere se è il medesimo codice ASCII o no se è il medesimo codice ASCII vuol dire che le due stringhe cominciano esattamente con la stessa lettera a questo punto che faccio vado a vedere la seconda lettera e cioè aumento il puntatore del primo D1 aumento il puntatore del secondo D1 e quindi vado a puntare la seconda di entrambe ma prima di farlo ci metto questo controllo che se per caso uno delle due string1 arriva al carattere nullo attenzione stiamo dentro il while se string1 dereferenziato è il byte nullo siamo entrati dentro il while vuol dire che anche l'altra aveva il carattere nullo se no non entravamo dentro il while e allora se la prima mi sta puntando il byte nullo allora io restituisco le due stringhe sono identiche perché anche la seconda mi sta puntando il byte nullo cioè è finita pure la seconda non è aldo e aldofranco aldo e aldo è finita dopo l'oce è il byte nullo e quindi restituisco true è vero sono identiche in qualunque altro caso restituisco false allora quella che state per vedere credo non per vantarmi ma penso che sia la più veloce funzione procedura non funziona perché si dice bull per vedere se due stringhe sono identiche potrebbe probabilmente essere migliorata se andassimo a diassemblare questo codice come vi ho visto tempo fa e vedere esattamente il compilatore come lo assembla forse potremmo al lato assembly migliorare qualche cosina per esempio mettere l'indice potremmo mettere l'indice dei puntatori su due registri e lasciarceli ma a livello C quello che state vedendo è il più veloce non per vantarmi perché me la sono rifatta per conto mio ma ovviamente questa qui la troverete su internet però ecco fare questi esercizi anche per chi come me ha solo bisogno di fare il refresh è importante perché state vedendo proprio la programmazione quella nuda e cruda tutto quello che vedrete negli anni successivi si basa su questo che state vedendo bene a questo punto io ho la funzione uguali me la vado a mettere in quel while invece che mettere quell'operatore e confrontare i due cognomi io lancio faccio un attimo lancio la funzione uguali gli passo il campo cognome del vettore gli passo il vettore cognome popolato qui e a questo punto la funzione uguale che avete visto poco fa deve fare l'operazione e andare a vedere se sono uguali o meno le due stringhe se sono uguali restituire la true se non sono uguali restituire la false io ci metto il not davanti il punto esclamativo sarebbe la negazione e quindi che cosa sto dicendo al while sto dicendo al while finché non sono uguali vai avanti è tutto come prima compilo e mi fallisce non so perché e niente mentre stavo scrivendo adesso devo aver fatto un po' di lo lancio mi fa tutto quello che faceva prima ah beh mi sono messo un while per riscrivere il tutto per vedere la tabella comunque fa tutto quello che faceva prima e poi mi chiede di chi vuoi sapere i voti a questo punto io gli scrivo tassi tassi ha preso 28 in analisi 27 in fisica 30 affondamenti quella funzione io potevo anche io potevo anche farla diversamente per esempio potevo mettere return false ma insomma chiamarla diversi e ritornavo false quando era non so siamo a fare cose stupide la lezione di oggi era sulla struttura quindi tornerei lì però mi è venuta voglia di raccogliere la la l'osservazione del collega cosa succede qui sono Marsili Guidi Tassi e Carli e se io ci metto Rossi cosa pensate che succeda non si esce dal ciclo uguale quindi cosa succede non è successo quello che lei diceva perché però questo ha a che fare con la funzione che ho fatto io beh adesso effettivamente per fare l'analisi quello che è successo ci porterebbe via almeno 10 minuti per cui ve la lascio tanto è tutto registrato ve la lascio a modo di esercitazione per casa io andrei a fare un po' un riepilogo di quello che abbiamo visto che sarebbe l'innovazione di oggi allora ricapitolando questi esempi che abbiamo fatto poco fa mi sono serviti per introdurre il concetto di struttura in C struct anche nota come record una struttura è una collezione di elementi di attributi vengono anche detti in terminologia di database vengono chiamati attributi che sono relativi a una entità la definizione di quale sia l'entità su cui raccoglie gli attributi è lasciata al programmatore il linguaggio C mette a disposizione del programmatore una funzionalità che è quella di definire un tipo di dato specifico per quell'entità che lui vuole trattare nel suo programma prima di usarla questa funzionalità il programmatore deve avere bene in testa qual è la tipologia dei campi cioè degli attributi che lui vuole inserire in questa struttura per esempio se stiamo a parlare di pure questi ormai passati compad disk se uno ha una collezione di compad disk probabilmente ha intenzione di memorizzare per ciascuno di essi titolo l'artista il numero dei brani il prezzo non lo so data di acquisto di pubblicazione quello che volete ma quando che il programmatore si è chiarito che questi sono i dati che vuole memorizzare bisogna che pensa immediatamente al tipo di questi dati il titolo sarà un vettore di carattere e così via data di acquisto qui ho messo un array di caratteri però la data essa stessa potrebbe essere una struttura perché è composta di mese giorno mese anno potrebbe essere tre campi essa stessa si può fare certo che si può fare questa è la funzionalità che il Cimet e anche il C++ mettono a disposizione in realtà il C++ vi consente di non mettere qui davanti il type def quindi scrivete direttamente struct quella è la parola chiave poi il nome che volete dare voi io prima gli avevo dato il nome libretto per esempio poi all'interno di una coppia di parentesi graffe che deve essere chiuso questo blocco dal dal da punta e virgola attenzione deve essere punta e virgola perché questa non è una definizione di funzione ma è una direttiva che va al compilatore ci vanno dentro le descrizioni dei campi anteponendo prima il tipo e poi il nome del campo il nome del campo glielo date voi per esempio io definisco una struttura cd cd è il nome che li do io con titolo e artista due vettori di caratteri 30 e 25 numero di canzoni interno prezzo flotta e così via data acquisto l'ho pensato un array di 8 caratteri dato questo definito un nuovo tipo di dato definitolo posso definire variabili di quel tipo le variabili di quel tipo si possono definire in due modi o scrivendo direttamente i nomi delle variabili dopo la definizione del tipo di dato prima del punto e virgola in questo caso per esempio io ho definito tre variabili cd1 cd2 cd3 tutte e tre di tipo cd sì prima l'abbiamo fatto con l'array che è la cosa più complicata che stiamo per vedere questa la posso fare se non ho bisogno di un array se non ho bisogno di un array posso definire variabili di quel tipo oppure posso scrivere così in un certo punto del codice scrivo cd che sarebbe il nome del tipo di dato cd1 cd2 cd3 invece che scrivere int cd1 cd2 cd3 invece di scrivere flotta cd1 cd2 cd3 scrivo cd cd1 cd2 cd3 a questo punto cd1 cd2 cd3 saranno tre variabili allocate sulla ram del tipo cd cioè verrà allocata sulla ram tutta la ram necessaria per ospitare 30 caratteri 25 caratteri 4 byte per numero canzoni 4 byte per prezzo e 8 byte per data di acquisto verrà tutto allocato sulla ram e tutto predisposto perché la si andrà poi a popolare quella zona della ram come lo si va a popolare o inizializzando la struttura al lato della definizione stessa per esempio io posso definire una struttura dati data con tre campi giorno mese anno e poi subito dopo allora come al solito non siete obbligati a stare qui perché questa quindi se avete da parlare potete tranquillamente uscire invito tutti quelli che hanno un bisogno impellente di parlare a uscire allora io ho definito una struttura dati per esempio data posso come abbiamo appena visto definire immediatamente una variabile di quel tipo che la chiamo data di nascita e la scrivo subito dopo la definizione del tipo prima del punto e virgola addirittura mediante l'operatore di assegnamento la posso inizializzare già all'atto stesso della definizione cioè io qui prima di questo punto e virgola qua ho fatto tre cose ho definito un nuovo tipo di dato tipo che l'ho chiamato data di tipo struttura ho definito una variabile di quel tipo che si chiama data di nascita e che a questo punto viene allocata sulla ram e gli ho pure dato un valore gennaio 6 1982 oppure io posso definire addirittura no addirittura stavendo predefinito la struttura cd posso dire che cd1 è del tipo cd questo struct era nel c ma nel c++ potete ometterlo basta che scrivete cd cd1 funziona lo stesso e inizializzate cd1 al solito modo dando i valori che devono andare in quei campi nell'ordine in cui sono stati definiti i campi nel tipo di struttura ovviamente e adesso un'affermazione abbastanza clamorosa sulla quale vi chiederei di esprimervi cioè vi chiedo come mai è possibile questa cosa a differenza dei vettori le variabili di tipo struct si possono assegnare cioè io per esempio se ho cd1 di tipo cd e mi definisco un'altra cd2 di tipo cd io posso scrivere cd2 uguale cd1 come abbiamo visto nell'estercizio poco fa non lo potrei fare abbiamo parlato se cd2 e cd1 fossero due vettori di ciard inter di quello che volete voi lo posso fare se sono due strutture siccome il concetto di struttura è più complesso del concetto di vettore mi chiedo come mai e vorrei qualcuno che prova a darmi una risposta è una copia cd2 e cd1 sono due allocati in memoria in due posti diversi e sono però entrambe della stessa forma perché sono tutte e due della forma cd ora cd1 c'è scritto felone sorona le orme nove undici nove cd2 non c'è scritto niente cioè c'è valori casuali poi scrivo cd2 uguale cd1 e tutto ciò che c'è in cd1 viene copiato in cd2 ti lascio la parola come è possibile che si possa fare questo con le strutture e non lo si possa fare con i nomi dei vettori aspetta che c'era qualcuno davanti prima ma perché con i vettori non lo posso fare e con le strutture sì la domanda in realtà è perché il c non me lo consente di farlo con i vettori ma me lo consente di fare con le strutture l'assegnamento ok altra risposta la definizione no 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 la definizione del tipo data è una dirittiva al compilatore ma qui sono state definite le variabili quella non è più sì sono state allocate proprio le variabili in memoria io posso allocare di tipo vettore e non posso assegnare i due vettori posso allocare di tipo strutture e posso assegnare le strutture un'altra risposta ce n'era un'altra mano alzata l'ultima risposta che mi è stata data è veramente interessante andrebbe eseguita i vettori i nomi dei vettori sono due puntatori i nomi di due strutture cioè c2 e cd1 che sono sono delle variabili sono allora cd1 e cd2 sono due nomi di variabili non c'è ombra di dubbio i nomi delle variabili che sono sono dei puntatori nascosti all'indirizzo dove sta quella variabile lo stesso quindi per cd1 e cd2 in questo senso non c'è molta differenza con i vettori l'unica cosa è che il vettore è un puntatore al primo elemento del vettore invece questo qui è un puntatore a tutta la variabile tutta quanta quella è la differenza fondamentale che mentre il nome del vettore è un puntatore al primo elemento perché come è stato detto da su non sa il compilatore quando sarà lungo il vettore non lo sa qui invece questo è un puntatore a tutta la variabile come se fosse un int come se fosse un float e l'int il compilatore sa quanto è grande quanto è grande l'int 4 il flotto lo sa quanto è grande quanto è grande 4 beh non ci crederete no ci crederete benissimo il compilatore sa pure quanto è grande cd c maiuscolo di maiuscolo è grande la somma di tutti le grandezze di tutti i campi primo secondo sa quanto è grande ciascun campo e a questo punto se non ci avessero consentito di fare sta cosa veramente non avrebbe avuto senso cioè noi possiamo assegnare due variabili strutture perché sappiamo esattamente quanto sono grandi e sappiamo esattamente quanto è grande ciascun campo per cui per cortesia operatore di assegnamento me vai a ricopiare tutto quanto byte per byte il vettore in teoria uno potrebbe giocare fare una struttura di un solo vettore ma la risposta è nella seconda in realtà anche te è un mix delle risposte cioè con i vettori non lo posso fare perché non so quanto è lungo il vettore e quindi la probabilità di fare un buffer overflow andando a segnare a un vettore di tre elementi un vettore di quattro è altissima e comunque sia con le stringhe io saprei quando finire a legge la stringa ma con un vettore di interi quello comincia a partire dal primo ma poi non sa quando si deve finire quando sa quando deve finire qui invece sa tutto perché sa la dimensione della struttura quant'è io posso mettere un vettore dentro una struttura cioè l'abbiamo fatto cioè poi metto uno solo lo più vuoi dire la domanda è scusa non hai visto che l'abbiamo fatto ne abbiamo messi due stiamo arrivando un po' alla fine perché adesso l'argomento successivo sarebbero gli ordinamenti e quindi insomma staccherei andiamo un pochino oltre però appunto l'altra operazione fondamentale è l'accesso al singolo campo del vettore cioè dopo che io ho definito una variabile tipo struttura uso il punto per accedere al singolo campo di quella variabile per esempio se io ho cd1 cd1 è di tipo cd1 è di tipo cd allora io so che è fatto di tot campi che il primo campo è un vettore di 30 caratteri che però ne sono stati occupati di meno di 30 ma tanto dopo la di Sorona c'è il terminatore non ci preoccupa granché la cosa anche le orme qui era di 25 ne sono state occupate solo 7 lo spazio lo prende sì per come l'ho scritto fra doppi apici lo prende che succede scusa dopo la e di orme c'è il byte nullo non c'è uno spazio e quello è il terminatore della stringa le orme con lo spazio compreso perché lo spazio non è un terminatore sì rimangono non occupate ah grazie ovviamente ovviamente la dimensione del cd qua è fissata è 55 più 4 59 più 4 63 più 8 71 byte quegli altri se non li uso rimangono non usati ma occupati sulla ram però questa domanda mi piace molto perché mi introduce l'ultimo argomento di oggi ci torno fra 5 minuti invece adesso stiamo a parlare di come si accede al singolo campo se per esempio io scrivo cd1 punto prezzo vado a prendere il campo prezzo oh ci stava sì il quarto che è di tipo flotte questo qui e gli do un certo valore ha aumentato il prezzo è salito a 30 euro e 75 con questo punto si accede a quel campo una volta che ci abbiamo accesso acceduto quello è come il nome di una variabile la posso leggere la posso scrivere la posso mettere dentro un cin la posso mettere dentro un count la posso assegnare con l'uguale come se fosse una normale variabile è una normale variabile sarebbe la variabile prezzo non so di una cosa che però non si potrebbe di della variabile cd1 all'interno della variabile cd1 so se sono chiaro in questo parlare un po' grezzo che sto usando lo stesso per numero canzoni che è un campo di cd1 esatto e così via il titolo il titolo è una stringa e con le stringhe posso o mi devo definire le funzioni per scriverle come abbiamo prima fatto con l'uguale che andavo a confrontare oppure posso usare una funzione di libreria ecco la prima che vedete mi pare che non l'ho mai citata string copy è una funzione di libreria che rivedremo più in là quando parleremo la settimana che parleremo delle stringhe in cui sostanzialmente gli posso passare due vettori di caratteri che si suppone che contengano due stringhe in questo caso in realtà gli sto passando al secondo argomento proprio una costante stringa non un vettore che differenza c'è tra un vettore che contiene una stringa e una costante stringa sono tutti e due vettori ma il primo per come l'ho detto probabilmente è una variabile vettore che ci è stata messa dentro una stringa il secondo è pur un vettore lungo esattamente quando è lunga la stringa però è costante cioè questa roba qui fra virgolette io non so parlare d'amore è un vettore di non so quanti caratteri contateli con dopo la E di amore il famoso byte nullo il tutto messo su un vettore che non ha nome il nome del vettore è proprio io non so parlare d'amore è un vettore costante allora che cosa fa string e copi mi prende questo io non so parlare d'amore e me lo copia dentro titolo sperando che il titolo sia sufficientemente grande per contenerlo al solito dopo che me l'ha copiato dopo la E di amore ci mette anche il byte di terminatore nullo una struttura può avere dentro un campo di tipo struttura e questo campo dentro di tipo struttura potrebbe avere un campo di tipo struttura e così via per esempio supponiamo che io ho una struttura impiegato in cui ci voglio mettere quanto prende il salario double poi questo impiegato avrà nome cognome eccetera nome cognome eccetera lo posso mettere dentro un'altra struttura che la chiamo info dove ci metto il nome 30 caratteri indirizzo 25 la città 20 la provincia 20 codice postale non so che raccolgo tutti questi attributi all'interno di una struttura e a questa struttura do il nome info poi torno a impiegato e invece che mettere nome dell'impiegato indirizzo dell'impiegato città dell'impiegato provincia codice postale ci metto dentro un campo che si chiama anagrafica e che tipo sarà sarà di tipo info info il c ci chiede di mettere anche struct davanti per ricordarsi a lui che info è una struttura ma in realtà è inutile perché l'avevo appena definita che era info è una struttura questo struct qui è inutile e in cpp mi sa che si può togliere adesso in questo momento ho un attimo di sbandamento dovrei andare a verificare comunque se non lo togliete o lo lasciate sicuramente non sbagliate ma il concetto è importante il concetto è che un campo di una struttura può essere a suo volto una struttura e a che cosa serve questo? serve per non replicare tipologie di aggregazione di dati se per esempio avete una tabella dove avete raccolto le informazioni di tutte le persone che lavorano in una certa azienda e quindi avete pensato di concepire questa struttura e poi dentro l'azienda ci saranno degli impiegati dei dirigenti dei titolari e dei consulenti quindi gli impiegati saranno solo una delle quattro tipologie di persone che stanno lì dentro allora io potrei pensare dovendo andare a fare una tabella degli impiegati invece che definirmi una tabella impiegato replicando i dati tipici di tutti potrei i dati tipici di tutti metterli dentro chiamandoli anagrafica e richiamo quella struttura che avevo pensato per tutti più specifico che l'impiegato ci avrà un certo salario cosa che non c'è per esempio il titolare chi ha fatto programmazione orientata agli oggetti sta vedendo l'avvicinamento al concetto di oggetto e di ereditarietà ma siamo ancora a metà strada quello che è importante capire è che questo è un modo conveniente effettivamente di strutturare anche a più livelli le strutture di dati chiaramente per far questo bisogna che il programmatore se fa prima un pochetto di cioè dovrebbe andare un pochetto in ritiro spirituale ci pensa ma ci pensa un po' di giorni quando ha capito che effettivamente è giusto far così lo fa normalmente quando farete il corso di basi di dati parlerete appunto anche della ridondanza dei dati e quindi queste cose forse vi ritorneranno alla mente però adesso le state vedendo dal basso stiamo salendo dal basso proprio ma se io ho una struttura dentro una struttura quando che vado a definire una variabile x di tipo anzi eccola qua ho una variabile capo ufficio eccola qui di tipo impiegato questa è allocata sulla ram e ci avrà un campo salario di 8 byte poi ci avrà dentro un campo che si chiama una grafica che sarà di 30 più 25 più 20 più 20 più 8 byte ecco non serve che lo disegno sulla lavagna ce l'avete in mente questa grafica no? ve la vedete? allora capo ufficio è sulla ram è di tutti quei byte io adesso devo andare a metterci dentro il salario cosa scriverò? scriverò capo ufficio punto salario uguale 2.000 euro l'abbiamo fatto se devo invece andare a scrivere il nome del capo ufficio dovrò scrivere capo ufficio punto anagrafica per andare a prendere il campo anagrafica dell'impiegato che però a sua volta è una struttura composta di nome indirizzo città provincia e codice postale se era il nome che volevo mettere devo scrivere di nuovo un altro punto per andare a prendere il campo nome del campo anagrafica quindi x.anagrafica punto nome io posso fare cin estrattore x.anagrafica punto nome vado a leggere dall'input il nome alberto punto invio alberto va a finire dentro il campo nome del campo anagrafica della variabile capo ufficio ovviamente se per esempio provincia fosse sta stessa una struttura e non so per quale motivo dovrei metterci tre punti e così via mi sono sbagliato x è capo ufficio vabbè perché pensavo che x è una variabile di tipo impiegato grazie 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 e adesso ci ricolleghiamo con l'esercizio con cui abbiamo iniziato dicendo che noi possiamo non solo definire una variabile di tipo struttura ma ne possiamo definire due tre quattro cinque e se sono fino a cinque e sei possiamo anche dargli a ciascuno un nome ma se sono tante definiamo un vettore di strutture come si fa? basta dare un nome all'array al vettore dire quanto è grande al solito dopo di che dire invece che essere un vettore di interi o di float sarà un vettore di cd un vettore di quello che è a quel punto viene allocata sulla ram all'indirizzo nome array che sarà nome array è un puntatore che punterà il primo elemento di questo array supponiamo di 100 cd io ho una collezione di 100 cd me le metto tutte in un array sto a fare una tabella dove il primo all'indice 0 sarà un cd quello di prima per esempio poi ce ne sarà un altro poi un altro mi sto a fare una tabella di access in pratica come ho detto prima il nome di questa tabella altro non è che un puntatore ha la prima riga e la riga è una variabile di tipo tipo struttura e tutto va come da esercizio che abbiamo visto in apertura avete domande? state vedendo come programmato access a parte la grafica ma i concetti su cui si appoggia le tabelle sono definite in C esattamente come le avete viste oggi l'ultimo e chiudiamo questa cosa che stiamo per vedere è una cosa per i programmatori smart la facciamo qui a proposito delle strutture anche se quella che stiamo per vedere non è una struttura semplicemente gli somiglia moltissimo per come è scritto è uguale l'unica cosa che cambia è che invece che struct c'è scritto union le union è un tipo di struttura dati che c'è da sempre c'era pure in Pascal e serve per i programmatori smart per risparmiare memoria somigliano in effetti alle strutture come scrivo qui per come sono definite cioè in pratica tutto quello che avete visto per le strutture di cui abbiamo parlato potete cambiare togliere struct mettete union e funziona il compilatore vi compila ma qual è la differenza fra union e struct mentre in struct se io definivo una variabile di quel tipo veniva allocata la variabile sulla ram e la dimensione della variabile era la somma della dimensione di tutti i campi come abbiamo discusso poco fa la union fa invece una cosa strana da matti cioè se io definivo definisco per esempio qui c'è union nome nome non so che nome è nome qualunque gli date il nome no? poi definito una variabile di quel nome non è che viene allocata tanta ram a seconda della somma delle dimensioni dei campi ma il C fa un'altra cosa va a vedere di tutti questi campi da 1 a n qual è quello che avrebbe la dimensione maggiore per esempio c'è un vettore di 25 caratteri poi c'è un altro di 20 quindi quell'altro è più piccolo poi c'erano altri due più piccoli ancora allora invece che allocare la somma 25 più 20 più gli altri alloca 25 c'è la somma del maggiore del campo più grande e basta chiaramente così facendo non c'è spazio per gli altri non è che si può fare le magie nell'informatica per cui perché lo sta a fare lo sta a fare perché si vede che in realtà di quella variabile di quel tipo del tema nome non verranno allocati tutti i dati ma solo uno allora dice allora se ne deve allocare solo uno perché ne interessa solo uno non so quale io gli do il valore massimo a seconda del massimo campo semmai ne utilizzerà di meno cioè com'è possibile solo un dato e a volte ci sono delle situazioni in cui in realtà di quella struttura a te ti interessa solo il titolo o solo l'anno o solo il nome dell'artista è strano l'esempio non c'è calza ma in altri casi invece potrebbe essere molto smart guardate questo esempio con cui concludo la lezione di oggi a proposito dell'unione che non ho mai dato che ricordo io come esercizi l'esame che però ripeto per programmatori professionisti in realtà potrebbe essere fare la differenza in occupazione di ram e in velocità anche guardate non so se si legge perché è piccolissimo è un esempio per far capire a che cosa servono le union se si vede lo illustro dopodiché sarà chiarissimo e vi rimarrà per sempre questo concetto si vede? vado allora vado oltre guardate qui a sinistra c'è invece che struct mix t c'è union mix t cioè mix sta per miscelato tipo miscelato tipo miscelato cioè qui è un programmatore veramente smart che dice io ho una collezione di oggetti che potrebbero essere di tipi diversi però se è un tipo non è quell'altro e quindi invece che fare una struct faccio una union poi di che tipi potrebbe essere? e quello che voglio allogare potrebbe essere un intero in questo caso il campo lo chiamo L oppure potrebbe essere una struttura che c'è dentro due campi la chiamo S questa struttura il campo alto high e il campo low o l'ho presa da un pezzo di codice proprio un pezzo low basso low oppure potrebbe essere un vettore di quattro caratteri attenzione senza senza byte nullo quattro proprio cioè quattro allora qual è il più grande di questi? sono uguali tutti e quattro perché short è di due è un tipo dato fondamentale che non abbiamo mai visto è di due int è di quattro c quattro jarra è di quattro e quindi la dimensione a questo punto di questa struttura di questa union non sarà quattro più quattro più quattro cioè dodici ma sarà quattro e quindi definisco una variabile mix di tipo mixint questa variabile mix viene allocata in memoria su quattro byte quando sarà riempita valorizzata ci potrà da finire un intero e in tal caso occuperà tutti e quattro i byte a seconda di dove era da usare se per esempio scrivo mixint uguale x dove x era un intero viene allocata tutta quanta come da intero ma io posso scrivere mix punto c zero e in realtà vado allocare solo questo byte qui se scrivo mix punto c punto uno alloco solo questo e così se metto come indice 2 alloco solo questo se metto come indice 3 alloco solo questo cioè alloco addirittura un solo byte di questa roba è chiaramente più veloce oppure se ne devo scrivere due posso mettere mix.s punto high oppure mix.s punto low questo è un trucchetto che i programmatori professionisti usano per ridurre la RAM quando gli si è ben chiarito che di quella struttura che sarebbe stata una struttura lui avrebbe utilizzato solo un campo per memorizzare un qualcosa o uno o l'altro o l'altro o l'altro allora a quel punto l'avrebbe pure potuta chiamare struct e quindi mix sarebbe stata una variabile di tipo struct invece che union ma avrebbe fatto un enorme spreco di RAM perché perché gli altri campi non li avrebbero mai utilizzati di ognuna utilizza solo un campo allora qual è la differenza fra scorrere uno a uno i membri gli elementi di un vettore o scorrere uno a uno i membri di una struct allora il di una struct di una union il vettore è un puntatore che scorre la struct non c'è nessun puntatore che sta scorrendo la struct ha già quei campi che si chiamano nome indirizzo città provincia codice postale che già puntano a quel campo della struct non scorrono non c'è uno scorrimento ognuno di essi punta all'indirizzo di quel sottocampo di quel campo di quella struttura non c'è uno scorrimento ah sulla union dici nel caso della union la union è grande quanto è grande il campo più grande che c'è dentro descritto in questo caso sono tutti e tre di quattro allora torniamo per esempio qua torniamo qua cd se invece che struct io ci scrivo union qui va benissimo ma non vengono allocati tutti questi byte ma vengono allocati solo 30 e quindi quando aumenta di uno aumenta di 30 se fosse un puntatore di union cioè se fosse un vettore di mix t un vettore di union un vettore di mix t scusami che sono delle union io vado ad aumentare l'indice del vettore di uno in questo caso mi aumenta di quattro perché la dimensione della union mix t è quattro che è la dimensione del massimo campo che c'è dentro in questo caso sono tutte e tre uguali era questa la domanda bene allora io oggi pomeriggio ci sarà la esercitazione che verterà anche su questo l'aula è la stessa dove l'avete fatta l'altra volta se andava bene perché ci sono le prese per domani invece venite digeriti è meglio che non avete troppo cibo sullo stomaco domani pomeriggio perché parleremo degli algoritmi per ordinare questi vettori di cd o vettori di libri o vettori di impiegati il figlio di combattare il figlio di solito è vero di solito